Musica Elezioni amministrative a Marciano della Chiana, presentazione della lista insieme per il bene comune con candidato sindaco Maria De Palma. Quali sono le caratteristiche di questa lista? Ma questa è una lista con praticamente abbiamo cercato di tenere in parità o quasi in parità essendo che io sono una donna, sia donne che uomini. Abbiamo cercato caratteristiche diverse nell'età, nelle competenze e quindi è una lista fatta da età diverse, competenze diverse ma hanno in comune tutti una cosa che è quella che sono ben radicati nel territorio e hanno scelto di vivere qui. Hanno scelto tutti di vivere, anche quelli più giovani hanno scelto di vivere qui e hanno fatto di Marciano della Chiana la propria casa quindi la caratteristica che li unisce tutti è questa. Alcuni di loro hanno già esperienza amministrativa, altri invece no. Avete cercato comunque di assemblare le varie esperienze, anche personali? Sì, altri non hanno esperienze perché sono giovani, tra l'altro quest'anno nella lista ho quattro miei ex studenti, cinque anni fa ne avevo due, ovviamente quasi tutti della lista sono rimasti, della mia lista precedente ne sono andati via solo due per motivi personali. Io voglio ringraziarli sia Salvatore Di Nozzi che Matteo Ciacci perché sono stati con me cinque anni ma poi per motivi personali hanno scelto di uscire e quindi questa è la lista, ripeto, è fatta da sei donne con me e sette uomini.